ciao a tutti e bentornati come una volta su indie gameplay ita oggi un altro episodio di Empyreon dopo la live che vi è piaciuta molto mi sono messo a fare un po di materiali ho fatto una piccola miniera per poter ottenere un po di pietra di roccia cosa che mi servirà molto adesso cioè adesso mi è servita adesso per mostrarvi una cosa allora adesso io voglio vorrei tanto ok prendere la carne perché anche questo questo è spiacevole perché vorrei mangiare ma la cosa che non ha carne questo va bene allora mentre cucino la carne vi faccio vedere quello che andremo a fare oggi che è molto interessante perché ho effettuato una ricerca di una base di lusso è la Dubrovnik Dynamics ricorda un po la città di Dubrovnik bellissima tra l'altro questa base bianca e la voglio fare in una zona più in là probabilmente la metteremo qui in questa zona magari vicino alla montagna o sulla montagna addirittura vediamo sarà la mia prima e penso unica base su questo pianeta pian piano poi trasferirò tutte le risorse che ho qua ecco insomma volevo giusto farvi vedere un altro passo importante per il proseguire del gioco mangiamo intanto la carnina andiamo andiamo a vedere tra l'altro ho calcolato che ci volevano 50 minuti per sviluppare questa base ma in realtà in realtà dormendo ne ho guadagnati circa 40 quindi dovrebbe essere interessante allora vediamo un attimo dove potremmo mettere la base la base tra gli alberi sarebbe figo metterla qui però gli alberi non lo so non lo so mi lasciano sempre il dubbio che che possa esserci qualche problema non so magari legato ai ragni o qualcosa magari la possiamo questo è troppo desertico per me magari qua qua la base la potremmo provare a mettere qua vediamo fin di tutto ups quanto è grande e sì sicuramente è sul verde mi sarebbe piaciuto fare una base e su una montagna che entra nella montagna ma quello ci sarà sempre sempre tempo per farlo allora andiamo a vedere come funziona la posizionamento della base andiamo a prenderla che è qui genera e vediamo quanto è grande eccola qua stupenda la mettiamo qua così ok questa è la base questa è la base vediamo se riusciamo a parcheggiarci sopra e andiamo a esplorarla insieme perché questo è un progetto veramente figo visto dall'esterno comunque è fatta sembrava meglio dalle immagini insomma però questa sembra essere un'ottima zona di atterraggio quindi parcheggiamo ok vedete avete sentito il bip quindi significa che l'ha riconosciuto come parcheggio questo è molto importante sulle navi perché ci permette di ancorarle ripararle insomma e far sì che dopo questo bip vengano considerate un'entità unica con la nave quindi non spazzate via appena decolliamo lì sopra c'è una bella torretta che possiamo comandare ovviamente non ci sono proiettili però questa qua ci servirà per difenderci belli vetri oscurati ma andiamo dentro a vederla perché adesso è uno spettacolo andiamo a vedere qua ci sono dei pannelli solari quindi dovrebbe avere una generazione solare la base però andiamo a vederla perché non la conosco quindi è proprio un video proprio rapidissimo giusto per vedere come può essere una base allora praticamente qua abbiamo la stazione co2 che ci permette di caricare ok un serbatoio di ossigeno che possiamo dare a riempire magari con questo ok qua possiamo caricare la tuta bene questo questo accende che cosa ah bello perché è stato fatto questa questa immagine diciamo per farci capire che questo interruttore va e alimenta guardate anche che hanno disegnato per la zona di azione allora questo alimenta il costruttore ok il costruttore qua abbiamo un container large quindi bello grande dove verrà tenuto tutto all'interno brutta sta cosa qui dovremmo sistemarla e magari lo facciamo subito infatti si compenetra col terreno questo capita ma guardate anche il modo in cui ups si sistema proprio rapidamente scavando non c'è il rischio neanche di andare a distruggere cose della base poi fuori gli daremo un'altra settata e ups ok poi scave bello il pavimento in marmo ok abbiamo sistemato anche la zona molto bene molto bella ok questa è la base questa è la base abbiamo un container qui questo è quello delle munizioni quindi tecnicamente dovremmo poter mettere le munizioni che verranno prese dalla torretta per difenderci qua sotto abbiamo la zona di bellissima hanno fatto anche la cucina che manco nella cucina è solo un container qua abbiamo i frigoriferi dove possiamo mettere la nostra carne le nostre cose non ha coltivazioni perché non me ne ha chieste e questo è molto importante perché ce lo va a chiedere quando dobbiamo produrre ci chiede dei terreni della coltivazione quello ci fa capire che all'interno della base ci sono dei campi coltivabili ma per quello c'è tempo perché possiamo la mia idea è quella qua di fare un buco andare sottoterra e sviluppare tutta la coltivazione sotterranea comunque premendo P andiamo a vedere che l'energia non ce n'è di energia non ce n'è però è tutto alimentato tutto acceso probabilmente perché ci sono i pannelli solari ventilatori si beh qua è energia solare 8 infatti c'è una batteria che è tutto attivo non riesco a vedere l'energia prodotta eccola qua 131 watt si al momento riusciamo a tenerci accesi non so per quanto riusciremo 2 minuti 2 minuti di autonomia perché ormai sta arrivando il tramonto quindi no 5 ore quindi vabbè insomma questo qua è il piano di sopra non che ci sia molto da fare perché qua c'è la possibilità di sederci ma non abbiamo nulla da fare il letto per passare la notte e quindi ritrovarci il giorno dopo il posto della tenda abbiamo un tv che non serve assolutamente nulla anche qui niente da dire un divano con cui riposarci si recupera il vigore che torna al massimo quindi dopo aver corso siamo qua in casa possiamo riposarci e qua invece abbiamo la zona di atterraggio molto interessante molto basilare come base però fatta molto bene perché abbiamo i pannelli qui e i pannelli di fuori quindi non qui molto bella anche questa vetrata fatta così quindi va bene allora quali sono i piani successivi per la base i piani successivi saranno magari con parcheggio overcraft insomma va bene allora per portare qua tutto tutta la merce inizieremo anche la postazione della tuta fantastico inizieremo la produzione di cose di come si dice di cibo anche se produzione di cibo si la possiamo fare sotto però poi la nostra vita sarà nello spazio quindi insomma questa è molto bella mi piace molto e i lampadari anche molto molto belli devo capire adesso come demolire io voglio recuperare il blocco quindi vedete io adesso faccio smonta smonto questo che è un terreno normalissimo oh no no mannaggia qua ho scavato direttamente sotto il nucleo quindi potrebbe essere un po' un problema questo perché ho scavato sotto direttamente vicino al nucleo ma vabbè non è un gran problema qua poi andremo sotto e scaveremo e faremo la nostra ascensore che porta di sotto quindi qua iniziamo a depositare tutto quello che abbiamo in inventario che non ci serve e dovremo anche piazzare un sistema di probabilmente di alimentazione ok va bene allora 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 vediamo se riusciamo già a fare un ascensore ma io credo che l'ascensore non lo abbiamo non so come si chiami ufficialmente però dovrebbe essere qua ma non credo di averlo eccolo qua ascensore sì non ce l'ho vediamo se possiamo già sbloccarlo per la base la cosa sorprendente della live che ho fatto l'altro giorno è che c'erano persone che non conoscevano ancora il gioco incredibile perché è talmente bello che vabbè ricerca pannelli solari dovrei farlo per aggiungerne eventualmente altri però vabbè io ho paura qua c'è il teletrasporto che hanno aggiunta delle ultime patch e ci possiamo teletrasportare in altre zone no io volevo vedere l'ascensore ma onestamente non so dove sia e non so nemmeno se posso ricercarla porte anti-esplosione molto interessanti non c'erano prima costruttore avanzato che credo deve aver già la fornace che è molto utile perché ci permette di fondere i minerali quindi fa in modo automatizzato tutti i lingotti con una grande velocità qua abbiamo invece il decostruttore che ci permette di buttare dentro della roba degli oggetti che abbiamo già fatto e ottenerne i materiali in modo automatizzato un generatore grande che non possediamo ancora siamo soltanto di livello 7 quindi dovremo lavorare tanto protezione offline non ci serve perché non siamo online e neanche il dispositivo di rivendicazione terreno che è una cosa importantissima se volete giocare online con un'altra gente no non lo so non vedo non vedo ascensori vediamo se in varie c'è eccola qui perfetto hai cercata si credo vediamo se me lo fa prendere adesso ascensore eccola qua piazza d'arciario parti elettroniche fibra ottica quindi vabbè niente non possiamo ancora farlo perché mannaggia quanto mi da fastidio per aver fatto sta cosa mannaggia posso fare un blocco voglio voglio ricoprirlo di nuovo ingresso ah ma aspetta construct out uso lo stesso posso farlo no vorrei fare il blocco per andare a ricoprire nuovamente blocco questo accendi ah me lo fa ok ascensore me l'ha fatto mi crea anche il blocco quindi a sto punto mi serve la pistola per ripitturare quella cosa lì però vabbè adesso prendiamo il blocco prendiamo questo posizioniamo scusate il blocco qui e lo riposizioniamo è brutto da vedere ma perché non me lo metti ho fatto un blocco piccolo mi sa ho paura vediamo un po' cos'è perché non me lo fa mettere blocco rinforzato S si infatti devo fare un blocco M vediamo se riesco blocco carbonio acciario si facciamo questo poi andrà pitturato come ho già detto quindi ok stiamo allestendo la base così allora l'ascensore è lì cavolo me l'ho messo allora questo buttalo lì questo non ci serve questo è piccolo si perché non si possono mettere blocchi piccoli dentro i grandi ok qua vedete qua lo ripitturiamo non è un problema a sto punto io direi che recuperiamo questo ok poi prendiamo la trivella e andiamo a scavare quindi a questo punto noi piazzeremo l'ascensore come prima cosa qui e ne faremo uno anche qua sopra magari con le porte oscurate stile come questo ah no ma sono un babbano non avevo proprio visto questa zona qua ah ah non che cambi qualcosa perché però cavolo era ben nascosta questa qua è la zona sera container large ma no ma sono un pirla perché questo è il generatore ha la batteria solare il generatore piccolo e qua il carburante quindi noi possiamo all'interno mettere queste celle riempire l'energia abbiamo anche l'alimentazione mi sono proprio perso tutta questa zona qua come ho fatto non lo so in sintesi qui il bello è che abbiamo già la zona per scavare quindi non abbiamo la necessità di farla sotterranea perché è già sulla base quindi di sotto possiamo fare magari una sala segreta un deposito delle armi e va bene ma questo questo che cacchio è non è un terreno di costruzione o si ma scusate io adesso provo a fare recupero a blocco vediamo che cos'è blocco di calcio e struzzo e infatti questa qua non è una zona di costruzione cioè questa è una lampada lampada da coltivazione e sono d'accordo infatti la riposiziono ok ma questo non è un blocco da coltivazione è un blocco di calcio e struzzo quindi probabilmente qui ce li dovremmo piazzare noi fantastico è fatto anche in modo ottimizzato per poter funzionare bene manca forse l'infermeria cioè niente me la sono persa cioè sono entrato ho pulito tutto qui sono entrato da là e me l'ero persa manca l'infermeria ecco quello si allora qua dietro ottimo fantastico perché qui niente non c'è l'infermeria ma abbiamo solo il serbatorio di carburante bene ho batteria solare fantastico niente ottimo bella rivalutata si poi l'idea di fare qualcosa di sotterraneo vedete in questo modo dove possiamo scendere non è male si torna su non è neanche indispensabile però vabbè ripitturerò di marmo il pavimento bella mi piace la base dobbiamo riempire quanto prima i materiali lì per usare la torretta cosa che magari proviamo a vedere subito se possiamo fare che proiettili serviranno proiettili fucile missile no proiettili minigun dobbiamo fare speriamo di poterlo fare subito di poterlo ricercare subito vediamo armi proiettili no è quella torretta che sta sul tetto quindi cannone al plasma queste sono tutte armi nostre quindi dovremmo andare nella base e vedere se c'è qualcosa qua sulle armi pannelli solari torrette mistili torrette proiettili torrette ok le ricerchiamo così almeno le abbiamo e riusciamo a fare la minigun perfetto adesso dovremmo poterlo costruire si possiamo farli ora proiettili però ci mancano la nitrocellulosa che dobbiamo andare a fare probabilmente bene ragazzi questo era un video proprio rapidissimo sulla costruzione della prima base qua in alto c'è il ventilatore bello praticamente non è utile in questo pianeta infatti potremmo anche smontarlo ma nei pianeti dove non c'è aria respirabile vedete qua ci sono dei campi di forza dentro mettete i serbatori di ossigeno e le ventole ogni volta che riconoscono un ambiente chiuso sigillato dalle porte così avere la ventola ci consente in automatico di distribuire l'ossigeno in quella zona quindi niente dovrei concludere qui gli approfondimenti per quanto riguarda Empirion Galactic Survival fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e ciao ciao grazie a tutti